E' stata presentata a Palazzo Lascaris la campagna di sensibilizzazione Uniti contro lo spreco per un uso corretto dei generi alimentari e la ridistribuzione delle eccedenze di cibo. Illustrati nell'incontro il progetto della Regione Piemonte Una buona occasione e la recente legge regionale per il recupero e la valorizzazione dei beni invenduti.